Bene, vediamo oggi i materiali semiconduttori. Prima di vedere però in dettaglio come funziona un materiale semiconduttore, cerchiamo di capire quello che è il comportamento di due materiali che già conosciamo, cioè i conduttori e gli isolanti, e della differenza che c'è tra i due. Allora, per capire bene il funzionamento, bisogna pensare un po' a quella che è la struttura atomica, e in particolare i livelli dove si trovano gli elettroni. Ecco, dai livelli più interni ai livelli più esterni l'energia aumenta. E che cosa abbiamo? Abbiamo che i primi livelli sono occupati, in azzurro vi ho messo i livelli, le bande, d'accordo, dove abbiamo gli elettroni, dove ci sono gli elettroni, mentre nei livelli più esterni possiamo anche trovare, chiaramente, delle bande vuote. Ecco, i conduttori hanno questa caratteristica. Nella banda di valenza ci sono degli spazi liberi, quindi la banda di valenza non è occupata del tutto. E il salto, il gap che c'è tra la banda di valenza e la banda superiore è piccolo, per cui eventualmente un elettrone potrebbe anche saltare a livello successivo, ma può anche nella banda di valenza cogliere nuovi elettroni, perché c'è spazio. Per cui un conduttore ha, appunto, facilità di muovere i loro elettroni, quindi per quello un conduttore ha degli elettroni liberi nel loro movimento. E il fatto di avere degli elettroni liberi determina la possibilità di avere un passaggio di corrente, perché la corrente è un moto ordinato di cariche, vi ricordo. E quindi, insomma, avere una banda che può cogliere elettroni oppure poter promuovere elettroni dà la possibilità, sicuramente, a questi elettroni di muoversi. Qua accanto, invece, vedete, dall'altra parte, lo schemino degli isolanti. Che cosa si vede negli isolanti? Si vede, innanzitutto, che la banda di valenza, quindi dove ci sono gli elettroni, nell'ultimo livello, è completamente piena. Ok? Quindi lì gli elettroni non possono, non può accogliere altri elettroni. Inoltre, il gap che c'è tra la banda di valenza e il livello superiore, la banda successiva, è molto alto. Quindi questi elettroni non riescono a saltare. Ecco che allora, qui, gli elettroni sono tutti bloccati, non riescono a muoversi. E se non ci sono elettroni in grado di muoversi, non ho corrente. Ecco perché, appunto, sono degli isolanti elettrici. Ecco qui, grosso modo, ho scritto quello che vi ho detto. E poi abbiamo i semiconduttori. Ecco, guardiamo allora com'è la struttura di questi materiali. Vedo, innanzitutto, che è un po' una via di mezzo tra gli isolanti e i conduttori. Perché? Perché, innanzitutto, vedo che la banda di valenza è piena. Quindi è uguale agli isolanti, sotto questo punto di vista. Perché qui elettroni non possono arrivarci perché è tutto pieno. Però c'è una cosa che assomiglia ai conduttori. Cioè, il gap che c'è tra la banda di valenza e quella superiore, che si chiama allora banda di conduzione, è piccolo. Che cosa significa? Significa che qualche elettrone può saltare alla banda di conduzione. Per cui, questo che in questa configurazione è un isolante, ok, può diventare conduttore nel momento in cui c'è una promozione di questi elettroni. E come si può promuovere? Ad esempio, fornendo dell'energia. E questa energia potrebbe essere sotto forma di energia termica, ad esempio. Quindi riscaldando un materiale. Potrebbe essere dell'energia luminosa. Ok? Quindi, con un po' di energia, questo materiale può diventare conduttore. Ecco perché si chiama semiconduttore. Vi parlo di una grandezza, che è la resistività. Che, se vi ricordate, l'abbiamo indicata con il simbolo Rho. E era una caratteristica che dipendeva proprio dalla natura del materiale. Ed era funzione della temperatura. E se vi ricordate, per i materiali conduttori, abbiamo detto che cosa? Che all'aumentare della temperatura, il Rho aumentava. Quindi la resistività aumentava. Se vi ricordate, la formuletta era... Vediamo se l'ho scritta. No. Provedo subito. Era Rho uguale a Rho zero, che moltiplica uno più alfa delta T. Ok? E questa legge che abbiamo utilizzato per i conduttori, faceva appunto vedere come all'aumentare della temperatura, l'alfa era un valore positivo, sostanzialmente questa resistività aumentava. Quindi all'aumentare della temperatura aumenta la resistività. E noi come l'abbiamo spiegato questo fenomeno? Beh, la corrente è un moto ordinato di cariche. All'aumentare della temperatura aumenta l'agitazione termica. E un aumento di agitazione termica che cosa fa? Impedisce il moto ordinato degli elettroni, che quindi anziché viaggiare in una direzione, andranno a collidere, ok? Con tutte le cariche che si stanno muovendo all'interno e quindi rallentano sostanzialmente questo moto ordinato di elettroni. Ecco, nel semiconduttore invece avviene una cosa completamente diversa. L'aumento di temperatura in questo caso diminuisce la resistività. Perché diminuisce la resistività? Beh, perché un aumento di temperatura può far sì che gli elettroni sostanzialmente dalla banda di valenza, ricevendo un po' di calore, quindi un po' di energia, saltino alla banda di conduzione. E quindi da materiale isolante, tra virgolette, diventa materiale conduttore. Quindi in realtà un aumento di temperatura favorisce il passaggio di corrente. Ecco, questo per quanto riguarda la resistività. Ora, in realtà noi abbiamo parlato dei semiconduttori. Ora, un semiconduttore per eccellenza è il silicio. Comunque possiamo dire, è quello che si usa di più. Li trovate nella tavola periodica sulla destra. Il silicio è un elemento del quarto gruppo. Nella sua configurazione, dato che ha quattro elettroni in ultimo livello, il silicio si legherà con quattro atomi di silicio e forma una sorta di reticolo, tipo questo che guardiamo in questa figura. Perché il silicio ha quattro elettroni, per ogni elettrone c'è un legame covalente, con, in questo caso è proprio covalente e puro, con un altro atomo di silicio e così via. Bene. Che cosa si può fare? Si può andare a compiere quello che viene chiamato drogaggio. Cosa vuol dire drogaggio? Vuol dire inserire nel materiale delle impurità, ma dove nel reticolo, d'accordo, del silicio, si mettono dentro elementi che non sono silicio, quindi delle impurezze, ok? Ora, tra gli elementi, si possono mettere o elementi del terzo gruppo, i cosiddetti elementi trivalenti, tipo il boro, anche l'alluminio, insomma, e altri elementi, oppure elementi pentavalenti, cioè elementi che fanno parte del quinto gruppo, come ad esempio il fosforo. Ecco, a seconda che io droghi il mio semiconduttore, cioè a seconda che io inserisca nel mio semiconduttore a base di silicio, un elemento del terzo gruppo, o un elemento del quinto gruppo, andrò a formare un semiconduttore tipo P, oppure un semiconduttore tipo N. Adesso vediamo esattamente in che cosa consiste questa tecnica. È abbastanza semplice da capire. Allora, incominciamo dal primo. Incominciamo a mettere, ad esempio, il boro. Il boro ha solamente tre elettroni in ultimo livello, perché fa parte del terzo gruppo. Allora, se io tiro via, vedete, dalla struttura centrale, tiro via un atomo di silicio, e lo vado a sostituire con un atomo di boro, praticamente qui ho un buco. Cioè, questo elettrone si lega con questo, questo si lega con questo, questo si lega con quest'altro, ma qui non c'è l'elettrone che può legarsi con questo silicio. Si forma, il termine tecnico è, una lacuna nel reticolo. Cioè, praticamente, c'è un buco vuoto dove manca un elettrone. Vi faccio osservare, però, una cosa molto importante, che manca un elettrone nel reticolo, nel senso rispetto alla struttura, ma non è che è diventato di carica positiva perché manca un elettrone, eh? Attenzione! Perché quando io vado a togliere un atomo di silicio oppure a buttare dentro un atomo di boro, quando butto dentro l'atomo di boro, io butto dentro tanti elettroni, quanti protoni. Per cui, complessivamente, le cariche positive, le cariche negative, in questo reticolo sono assolutamente uguali. Quindi, un semiconduttore drogato di tipo P è neutro, ok? Di per sé. Però, nel reticolo c'è una lacuna, cioè, sostanzialmente, c'è spazio per un elettrone. Ecco, lacuna in questo senso, non che manca un elettrone, ma c'è spazio per accogliere un elettrone. Guardiamo adesso, invece, un semiconduttore di tipo N. Allora, un semiconduttore di tipo N ha, al posto, come impurezza di un atomo di silicio, si mette, ad esempio, l'atomo di fosforo. Ora, l'atomo di fosforo è del quinto gruppo, per cui ha cinque elettroni nell'ultimo livello. Ma, che cosa succede? Beh, allora, il silicio ne aveva quattro, per cui, dei cinque elettroni del fosforo, quattro si legano con gli atomi del silicio, ma un elettrone non si lega con nulla, ok? Che cosa succede, allora? Che nel reticolo dei nostri atomi di silicio e di queste impurezze abbiamo, in questo caso, un elettrone libero. Se ho più atomi di fosforo, avrò tanti elettroni liberi. Cosa vuol dire elettrone libero? Anche qui, non devo intenderlo come che il materiale è caricato negativamente, perché, ripeto, le cariche in gioco. Quando metto dentro un atomo di fosforo, lo metto dentro con i suoi protoni, i suoi elettroni. Quindi, la carica è sempre neutra. Però, il fatto che un elettrone non si leghi, vuol dire che lì è libero di andarsene in giro. Ok? Bene. Qui vi ho scritto che il semiconduttore drogato, ricordiamoci, che è di base neutro. Ecco, e adesso arriviamo a la formazione di quello che si chiama diodo a giunzione. Allora, come è fatto un diodo? Beh, il passaggio è io prendo un semiconduttore di tipo P, ne prendo uno di tipo N e li metto attaccati. Che cosa succede quando io metto attaccati un semiconduttore P e un semiconduttore N? Allora, il semiconduttore P ha delle lacune che io ho rappresentato con questi pallini vuoti. Cosa vuol dire lacuna? Vuol dire che c'è spazio per che arrivino degli elettroni. Il semiconduttore, invece, di tipo N ha degli elettroni liberi. Beh, che cosa accadrà? Dove? Chiaramente è in prossimità della giunzione, no? Quindi dove c'è il contatto tra questi due. Quello che accadrà è che gli elettroni che sono liberi nel mio semiconduttore N andranno ad occupare lo spazio della lacuna. Ok? Però, adesso si verifica una cosa particolare. Cioè, se gli elettroni si spostano e vanno da N a P praticamente adesso sì che il materiale si carica. In che modo? P era neutro. Ricevendo degli elettroni si caricherà, vedete, negativamente. Mentre N che ha ceduto gli elettroni a P si caricherà positivamente. Quindi si crea una differenza di carica o, in termini più tecnici, una differenza di potenziale dove però? Sulla giunzione. Ora, la domanda è andrà avanti sta cosa? Cioè, perché questo nostro semiconduttore di tipo N ha altri elettroni e il nostro semiconduttore di tipo P avrà altre lacune, d'accordo? Allora, tutti gli elettroni andranno a riempire tutte le lacune? Risposta no. No perché? Perché quando qui si crea una differenza di potenziale qui io ho il mio elettrone negativo ok? Che vorrebbe andare nella lacuna che sta qua giù beh trova al suo che si oppone al suo moto un campo contrario cioè un campo elettico contrario cioè cosa vuol dire? Vuol dire che l'elettrone si trova davanti una barriera che qui è negativo e allora l'elettrone non riesce a superarla d'accordo? Ecco che quindi c'è una carica sulla giunzione una differenza di potenziale quindi sulla giunzione però questa differenza di potenziale si può sfruttare in due modi cioè se ecco qui vediamo la differenza polarizzazione diretta e polarizzazione inversa se io il mio diodo lo collego ad una batteria da una parte o dall'altra vedo cose diverse cioè immaginiamo di prendere il mio diodo ok e di collegare il P con il più della batteria e l'N con il meno della batteria quindi P positivo N negativo però attenzione non è che è diventato positivo anzi in realtà questo qui è diventato negativo nella giunzione ma diciamo il semiconduttore P lo collego al più della batteria il semiconduttore N lo collego al meno della batteria ecco se faccio questo collegamento in realtà che cosa succede? succede che è vero che qui avevo un delta qui era meno e qui era più nella nostra giunzione ma il fatto di attaccare questo al polo positivo sostanzialmente mi va a diminuire il dislivello il delta V che c'è ok e quindi l'elettrone che trovava questa barriera negativa adesso che ho caricato tutto questo positivo beh questo elettrone riesce a spostarsi e se l'elettrone riesce a spostarsi vuol dire che la corrente riesce a passare quindi se io collego il diodo in questo modo la corrente passa vediamo che cosa succede invece con un collegamento contrario con quella che si chiama una polarizzazione inversa allora qui io avevo questo che era meno e questo che era più beh se adesso però il semiconduttore P lo collego almeno della batteria che cosa succede che il mio semiconduttore P diventa molto più negativo cioè diventa tanto più negativo allora l'elettrone che sta qua giù in fondo mai e poi mai riuscirà ad andare di qua perché qui trova una barriera enorme tutta negativa che si oppone al suo passaggio e se l'elettrone non si sposta vuol dire che la corrente non passa ok quindi diciamo per riassumere in questo caso il movimento dell'elettrone non è possibile mentre qui il movimento dell'elettrone è permesso ma dire che l'elettrone va da questa parte è come dire allora che la corrente sta circolando dalla parte opposta all'elettrone ecco che allora il diodo viene ad essere un dispositivo molto interessante perché in base a come lo collego posso far passare o meno corrente e questa proprietà del diodo la si sfrutta ok adesso vediamo dove intanto vi dico vi faccio vedere qual è il simbolo del diodo il diodo guardate anche lo stesso simbolo è interessante perché come potete vedere c'è questa freccia che cosa vuol dire vuol dire che la corrente può andare solo da una parte se la corrente va in questa direzione allora nel diodo passa corrente ma se per caso io qua metto il più della batteria e qua metto il meno beh la corrente di qua non andrà mai quindi si fa attraversare solo da una parte vediamo una delle applicazioni che avevo scritto utilizzato nel raddrizzamento della corrente allora su questo dico la verità è un mio rammarico molto forte non aver potuto fare le attività in laboratorio averlo saputo l'avrei potuto fare a febbraio ma chi poteva prevederlo perché qui è proprio bello poter lavorare con gli oscilloscopi e vedere tutta questa parte costruirsi il circuitino insomma l'ho sempre fatto e dico la verità un po' un ramarico ecco di non averlo potuto fare con voi avevo anche pensato di registrare un video ma mi mancano molti componenti cioè vado un po' faccio fatica a farlo eventualmente chissà se mai riuscissi a farlo ve lo manderò più avanti insomma ecco allora vediamo come come è fatto no cosa vuol dire raddrizzare la corrente allora vi ricordate che noi avevamo detto che a gennaio come si produce la corrente la corrente in quasi tutti i casi si produce con una tensione alternata ok qui vi ho fatto il grafico no questo andamento sinus vedale che vuol dire che va da una parte ma poi va dall'altra parte eccetera eccetera no quindi io lavoro con la tensione alternata ecco mediante un diodo e adesso vediamo come vogliamo fare in modo sostanzialmente che la corrente vada da una parte sola in questo modo si chiama una corrente una tensione unidirezionata cioè che va solo da una parte questo ad esempio diventa fondamentale per l'uso dei pc cioè io devo raddrizzare la corrente ok non posso utilizzare una tensione alternata e però anche questa poi non ci va tanto bene perché vedete che sono queste fluttuazioni che insomma non è proprio il massimo se io voglio avere una tensione continua che ne so 12 volt fissi devo poi vedete livellarla in questo modo quindi ci sono diversi step che si possono fare allora il primo passaggio è quello diciamo su cui adesso ci focalizziamo il primo passaggio è passare da una tensione che va da una parte all'altra ad una tensione che va da una parte sola dite tensione dite corrente va bene uguale ecco che allora ci viene in mente utilizzare proprio il nostro diodo perché perché il diodo è quell'elemento quel componente del circuito che si fa attraversare da una parte sola allora proviamo un attimo a ragionare no e poi in realtà vediamo che la cosa sarà leggermente più complicata di questa ma se io all'ingresso ho una tensione alternata e ci metto però un diodo beh in uscita non potrò più avere tensione alternata perché perché quando ci metto qua il più e qua ci metto il meno benissimo la corrente passa e quindi la corrente passerà ma quando io alterno e quello che era il più diventa meno e questo più diventa meno beh la corrente dovrebbe andare così d'accordo dovrebbe andare dall'altra parte ma una corrente così nel mio diodo non ci può andare quindi sostanzialmente vedete l'andamento qual è? fa passare la semionda positiva ma dove negativa non passa poi quando si torna si torna invertire la polarità passa ma poi non passa più ok quindi abbiamo un grafico proprio di questo tipo passa solo da una parte ecco buon qua insomma vi ho fatto questo questo ragionamento ecco in realtà però insomma non è bellissimo riguardando bene questo disegno che ci sia passa zero passa zero è come come se perdessi un pezzetto allora l'idea è anziché usare un diodo solo usare quello che si chiama un ponte a diodi cos'è un ponte a diodi e qui diventa quasi un po' elettronica quando quando si incomincia a ragionare su queste cose anzi senza quasi chi insomma voi chi di voi andrà all'università farà elettrotec un indirizzo di ingegneria elettrotecnica piuttosto che elettronica informatica insomma avrà a che fare con diodi transistor e quindi insomma questi simboli sicuramente li ritroverà o anche fisica sicuramente ancora di più a maggior ragione ecco che cos'è un ponte a diodi un ponte a diodi è un sostanzialmente è una componente realizzata mediante quattro diodi messi però in uno schema molto preciso allora su internet potete trovare anche combinazioni differenti è indifferente adesso ragioniamo su questo però il sistema è lo stesso potrebbero essere girate magari dove si applica la differenza di potenziale però la la configurazione come sta sta che sostanzialmente ok vedete qui la corrente va così e va così e invece qua va in giù e va in su cioè la corrente permessa è solo da una parte allora vediamo quale potrebbe essere il nostro output cioè qual è la nostra uscita allora l'ingresso vedete qui si alimenta in corrente alternata ok e da questo ponte a diodi uscirà qui un più e qui un meno ok quindi da qui uscirà il nostro più e da qui uscirà invece il nostro meno e l'andamento sarà invece questo cioè dove positivo resta positivo dove negativo diventa positivo questo ci permette di non perdere tensione cosa che prima il fatto che fosse zero si perdeva molta tensione quindi sicuramente questo sistema è molto più efficace ma vediamo in dettaglio come viene fatto allora seguiamo le linee allora ci sarà un certo istante in cui se questa è alternata sopra avrò più e sotto avrò meno ok mentre ci sarà nell'istante successivo in cui sopra avrò meno e sotto avrò più allora io so che la corrente va da più a meno allora proviamo a seguire il percorso della corrente qui la corrente va così esce dal più d'accordo arriva qui in questo nodo in questo nodo si dovrebbe dividere però che cosa succede qui ha due diodi uno che è messo contrario ok inverso e uno invece che è messo diretto cosa vuol dire vuol dire che la corrente qui non può andare per questo diodo di questo ramo ok qui non è consentito il passaggio di corrente perché non può andare contraria c'è una freccia che mi specifica da che parte deve andare quindi la corrente non può che andare giù di qua quindi sostanzialmente questo qui il mio più lo collego a questo quindi cosa sarà all'uscita questo qui sarà un più guardiamo il segno meno allora segno meno però ecco questo è un pochino più difficile segno meno perché devo ragionare all'incontrario ok quindi se questo è segno meno arrivo qui c'è il nodo adesso devo andare o di qua o di là però attenzione se io sto andando dal meno aspettate che magari facciamo qui uno schienino giusto per capire un attimo facciamo una cosa proprio molto semplice ok allora la corrente qui gira così d'accordo allora se io parto dal più mi è facile capire mi muovo seguendo la corrente ok se qua anziché in una resistenza ci metto un bel diodo ok bene qua ci passa ok adesso però proviamo a fare il percorso dal meno se io dal meno mi muovo ok vedete che io sto pensando vedete che sto andando contro il diodo se io mi muovo dal meno ok perché in realtà se penso delle cariche negative che si stanno muovendo si stanno muovendo in direzione contraria rispetto alla corrente per cui quando arrivo qua su questo nodo e qua questa biforcazione non vado di qua perché non è non è il più d'accordo è il meno quindi va nella direzione contraria ecco qui e questo sarà il mio meno ma la cosa interessante è che anche quando io inverto la polarità quindi qua diventa meno e qua diventa più seguiamo allora il più è sempre il più facile quindi vi consiglio sempre di seguire il più e poi quello che non è più sarà meno evidentemente quando voi andate qui partiamo dal più io arrivo a questo nodo qui ho questa biforcazione dove va la corrente la corrente può andare solo secondo verso della freccia perché sto guardando il più e quindi questa parte qui sarà il mio più mentre guardando il mio meno questo qui è il mio meno arrivo qui a questa biforcazione il meno va dalla parte opposta rispetto alla mia freccia quindi risalgo sostanzialmente quindi vado di qua ta 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 e questo sarà il mio meno vi faccio osservare che all'ingresso all'in io ho una tensione che oscilla più meno più meno vedete più meno meno più più meno meno più quindi qui oscilla ma all'uscita ho sempre più e meno dalla stessa parte quindi ho raggiunto l'obiettivo di avere una corrente unidirezionata cioè il polo positivo è come se io avesse una batteria sostanzialmente se io qua mettessi ok immaginiamo poi magari la cancello ok se io qua mettessi ok una batteria una resistenza immaginiamo ok io so ok come andrà la mia corrente so che andrà dal più al meno cioè è molto chiaro no ho realizzato è come se questa qui funzionasse da batteria sostanzialmente l'unico problema ripeto è che però vedete è oscillante allora bene ho tirato via la parte che si azzerava quindi adesso con i ponti a Diodi ho risolto questo problema però mi piacerebbe tanto avere quella tensione o quella corrente continua no livellata esattamente ecco allora per fare questo guardiamo un attimo solo questo schema vedete che lo rimpiccionisco un attimo bene ecco questo schema è il classico schema di elettronica dove vi faccio vedere che vabbè intanto vi dico subito che il livellamento lo ottengo con l'utilizzo di un condensatore e adesso guardiamo lo schema generale no che è molto interessante allora il primo simbolo che voi trovate qua sulla sinistra questo qui è un trasformatore questo qui è il simbolo che si usa in elettronica per indicare un trasformatore vedete il numero di avvolgimenti è diverso e quindi qui la tensione cambierà quindi ad esempio io immagino qui mi stanno arrivando scusate che prendo qua ok qua immaginiamo che ci stanno arrivando 220 volt in alternata ok beh io non voglio lavorare con 220 volt ok allora prima cosa riduco e per ridurre la tensione vi ricordo devo fare devo prendere un trasformatore con degli avvolgimenti nel secondario minori agli avvolgimenti del primario quindi ad esempio qua in uscita avrò una tensione alternata mettiamo di 12 volt ok quindi prima ho un trasformatore ma in ogni caso all'uscita del trasformatore io ho un'alternata ok adesso allora collego l'uscita del trasformatore con un ponte a diodi con lo schema che abbiamo fatto vedere prima quello che succede sostanzialmente all'uscita da questo schema è che qui e qui lasciate stare adesso che c'è il condensatore ok qui avrò il mio più e qui avrò il mio meno quindi in uscita io ho una tensione che non è più alternata ma sarà unidirezionata cioè che andrà sempre dalla stessa parte ora e quindi trovo passo ok da l'andamento sinusoidale la linea bianca all'andamento rosso ok bene voglio un livellamento cioè voglio arrivare a una cosa costante ci metto un condensatore perché proprio un condensatore cosa fa un condensatore ma il condensatore se vi ricordate è un componente che si carica e si scarica allora quando incomincia a passare corrente lui giustamente incomincia a caricarsi ma poi quando la corrente finisce lui si scarica quindi diciamo questo continuo no caricarsi e scaricarsi di questo condensatore cioè quando sostanzialmente no qui ho una differenza di potenziale capito il condensatore condensatore carico poi la differenza di potenziale va a zero ok vabbè ma il condensatore carico mi restituirà della corrente quindi diciamo che in realtà mi permette di avere un andamento più regolare ok quasi costante poi ci sono altre tecniche di affinamento per avere proprio il mio andamento costante tipo con l'uso di diodizine e altre cose ma insomma non mi interessa ok e quindi arriviamo a questa curva bianca che è quella in uscita va bene insomma così giusto la curiosità del condensatore poi per livellare mi interessa soprattutto la parte iniziale ecco vi dicevo che per fare questo sarebbe molto bello avere un oscilloscopio che cos'è un oscilloscopio? uno strumento di misura che permette di vedere l'andamento del nostro della nostra tensione quindi c'è questo strumento che si può collegare ad un circuito e si vede appunto l'andamento della tensione o della corrente insomma di quello che voglio andare a misurare e e vedo appunto i vari andamenti se metto prima quindi io l'oscilloscopio lo collego in questo punto vedo un andamento sinusvedale se l'oscilloscopio lo collego dopo i ponti a diodi vedrò invece l'andamento rosso se ci metto il condensatore vedrò l'andamento bianco quindi insomma tutta questa cosa si poteva fare in laboratorio ahimè ok bene concludiamo insomma dando un'altra applicazione dei diodi i diodi oltre a raddrizzare la tensione questa è una delle prime utilità insomma si usano anche come diodi a emissione di luce i cosiddetti led che sarebbe light emitting diode che vuol dire insomma proprio diodo no è una sigla D sta per diodo e emissione L sta per light luce quindi sono diciamo che componenti non so quando penso alle lampade a led ok un led può emettere luce oppure il contrario di un led è un fotodiodo allora vediamo brevemente insomma che differenza c'è e come funziona no allora un led ok sono qua a sinistra sostanzialmente che cosa usa no pensiamo anche le nostre lampade led io le collego ok ad una batteria una tensione e e vedo che questo led emette luce sostanzialmente ora perché c'è questa luce emessa perché sostanzialmente quello che succede è questo nell'ambito della nostra giunzione quando io collego no il mio il mio diodo con la nostra batteria io so che gli elettroni dato che qua circola corrente se la polarizzo nel modo diretto ok quindi collegandola bene è chiaro che il diodo led funziona ecco questa è una cosa interessante anche qui il diodo led funziona solo da una parte quando io vado a mettere dentro il mio led chi usa arduino insomma chi ha fatto il corso avrà visto che il diodo led non era non posso come una resistenza lo metto da una parte dall'altra è uguale i puntarini del nostro diodo led sono scusate un attimo che prendo la penna sono uno più corto e uno più lungo poi qui c'è il nostro il nostro diodo le uscite non sono uguali e questo perché appunto c'è anche una freccia indicata all'interno proprio perché io non posso collegarle da una parte all'altra solo se li collego nel modo giusto quindi se collego il P al più allora io ho il passaggio di corrente e il passaggio di corrente che cosa che cosa significa l'abbiamo detto prima significa che gli elettroni della zona N del semiconduttore N vanno a combinarsi con le lacune che si trovano nel semiconduttore P e quando l'elettrone si ricombina nelle lacune praticamente che cosa sta succedendo sta succedendo una cosa a livello energetico no se questi sono i nostri livelli beh diciamo che l'elettrone che si trovava ok sopra libero quindi ad uno stato energetico superiore va ad occupare un posto lasciato libero quindi una lacuna che si trova ad uno stato inferiore e qui ci insegna anche il buon Bohr ma insomma anche in tutti i successivi perché in realtà questo è un modello ben successivo a Bohr perché insomma Bohr ha tutti i suoi limiti nella modellizzazione però insomma le cose generali funzionano cioè quando un elettrone va a un livello energetico inferiore emette energia e questa energia la emette sotto forma di luce ecco perché appunto si chiama diodo emissione di luce ora si potrebbe fare su questo non entro in merito così insomma ve lo dico solo per curiosità che possiamo fare processo contrario cioè io utilizzo della luce per far far cosa per far saltare il mio elettrone ad un livello superiore e quindi promuoverlo e generare corrente ok questo invece è il fotodiodo ma non entriamo nel dettaglio invece ecco che volevo parlarvi un attimo che trovo il fotovoltaico no allora il fotovoltaico come funziona praticamente si produce energia elettrica sfruttando la luce del sole ma la domanda è come no da che cosa sono costituite le celle fotovoltaiche no i pannelli fotovoltaici che ad esempio abbiamo installato nei tetti eccetera allora le celle fotovoltaiche sono costituite sostanzialmente da dei semiconduttori drogati di tipo P ed N associati per cui noi abbiamo già visto che cosa succede nella giunzione quindi io prendo un semiconduttore tipo P uno N li metto insieme e si crea appunto inizialmente N che abbiamo questi elettroni liberi vanno in P e si crea quindi un dislivello una differenza di potenziale negativo in P e positivo in N adesso immaginiamo di fare questa cosa cioè di illuminare la cella fotovoltaica con della luce che cosa succede andando ad illuminare con della luce beh sicuramente andando ad illuminare degli elettroni sostanzialmente ricevono energia e quindi riescono a saltare perché il gap abbiamo detto che è molto piccolo nella banda successiva quindi praticamente che cosa abbiamo abbiamo che avremo degli elettroni liberi degli elettroni di conduzione ok elettroni liberi in più di quanto ne avessi prima questi elettroni liberi dove vanno quindi sostanzialmente qui avrò degli elettroni liberi ora che fine fanno questi elettroni liberi beh questi elettroni liberi andranno a ricombinarsi nelle lacune e dove esattamente beh andranno a mettersi o nelle lacune che sono nel semiconduttore P o molto più probabilmente andranno verranno accelerati da questa differenza di potenziale e quindi andranno verso il più quindi quello che mi aspetto è che in realtà questi elettroni vadano verso il semiconduttore di tipo N ok attratti dalla positività che cosa succede allora succede che avrò una mia cella fotovoltaica che avrà un segno meno e un segno più quindi sostanzialmente ho creato una batteria quindi ho generato una differenza di potenziale ok e se ho generato una differenza di potenziale ho generato sostanzialmente una tensione che posso utilizzare per alimentare qualsiasi cosa vi faccio osservare una cosa insomma che l'abbiamo già detta parlando di energia a inizio anno insomma quando sarà gennaio che questo sistema è completamente diverso da tutti gli altri sistemi di produzione dell'energia quelli faccio per dire che utilizzano l'alternatore che sono praticamente tutti tranne questo cioè se penso a una centrale elettrica di qualsiasi tipo una idroelettrica che utilizza l'acqua per muovere l'alternatore cioè la turbina che poi muove l'alternatore se penso alla centrale nucleare che poi si utilizza l'energia nucleare che dove si genera del vapore che ho utilizzato per azionare una turbina collegata all'alternatore d'accordo? c'è sempre questo alternatore ok? qui assolutamente no è un meccanismo completamente differente e proprio perché è un meccanismo completamente differente vi segnalo un'altra differenza che con un alternatore si produce una tensione alternata mentre nel fotovoltaico io produco una tensione continua ok? quindi se poi volessi invertirla vorresti avere una tensione alternata dovrei non so utilizzare un inverter cioè dovrei fare altre cose ma questa qui di fatto mi viene fuori una tensione continua va bene ecco questo un po' per chiudere parlando soprattutto no delle fonti di energia uno dei nostri filoni quest'anno è stata proprio no le fonti di energia e la produzione di energia no che devono soprattutto insomma tenendo conto no di tutte le tutti i protocolli di tutte le agende no per l'ambiente eccetera su questo siete anche più preparati di me sicuramente bisogna considerare che la produzione di energia deve essere fatta chiaramente nel rispetto dell'ambiente e quindi insomma la scelta di una fonte piuttosto di un'altra deve essere fatta anche tenendo conto di questo di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra